Sì, c'è chi è tu? guarda parte 3 guarda parte 2 guarda parte Oggi qui? Oggi qui? Davo? Posso che io continuo? Più da mi è il filo, frere? Oh, no! Ok? Qu'è sto? Qu'è sto? Qu'è sto? Ah! Qu'è sto? C'è chi? 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 E chi? E qua? Mi si paranoid al Chadtucap? C'è chi? C'è chi? Att Currently in Elena Verock Grazie. Grazie. Grazie.